Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, una riflessione sulle relazioni umane, sul passare del tempo e sulle conseguenze dei segreti sepolti nel passato. Invita il lettore a esplorare il lato oscuro delle apparenze e a interrogarsi sulle dinamiche di una comunità apparentemente tranquilla ma segnata da profonde tensioni e silenzi. La trama del libro Cose mai successe, della scrittrice Giulia Blasi, pubblicato dalla casa editrice Rizzoli, è la seguente. Friuli, un paese come tanti, una chiesa, case e villette, un supermercato. Nella seconda metà degli anni Ottanta, un gruppo di cinque amiche si addentra nell'adolescenza, tra festicciole pomeridiane, prime cotte e tante insicurezze. Tutto normale, tutto banale, fino al giorno in cui Luana, la più spigliata, ribelle e ombrosa del gruppo, scompare per non tornare mai più. Si dice che si è salita su un treno e si è scappata, ma del resto aveva sempre detto di volersene andare. Le chiacchiere e le ipotesi tengono banco per un po', ma come spesso succede? Il tempo diluisce la novità e la vita del paese torna a scorrere quieta e silenziosa come prima. Più di tre decenni dopo, le quattro amiche rimaste si rivedono a un funerale, e una serie di coincidenze riapre una porta sul passato. Troppe domande sono rimaste senza risposta, e altre tante non sono mai state fatte. Sotto la quiete apparente di un paese rispettabile potrebbe esserci una verità che nessuno ha mai voluto vedere. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.